Scade oggi l'avviso pubblico presente dal 25 settembre sul sito istituzionale del comune di Ponte Cagnano-Faiano per l'acquisizione delle iscrizioni di bambini tra 0 e 36 mesi ai fini della frequenza di micronido e servizi integrativi al nido e titolarità pubblica per l'anno scolastico 2018-2019. La coordinatrice dell'ufficio di piano, Giovanna Martuccello, ha fatto presente che l'ufficio procederà immediatamente alla verifica delle istanze redigendo le apposite graduatorie. Il sindaco di Ponte Cagnano-Faiano, comune capofila Giuseppe Lanzara, ha sottolineato che l'intervento si colloca nell'ambito dell'attività istituzionale di promozione delle politiche per l'infanzia, contribuendo ad elevare la qualità dell'indice umano dello sviluppo locale. Si continuerà su tale strada per mantenere alto il livello di attenzione e di impegno in favore dei bambini.